Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, un beso a e con Romana perché in termini personali, e questo voglio raccontare, fare un piccolo inciso. C'è un romano che sviluppa diversi temi, in particolare i rapporti di dominazione, che sono illustrati per il servaggio, per l'esclavaggio, per l'exploitazione economica, per l'exploitazione sexuola. E quindi tutte le persone che sono l'obietta di l'un o l'altro di queste dominazioni, sono ovviamente perciate come dei sauvaggi, per ciò che exerce questa dominazione. Ce che ho voglio dire anche, è che i ròi di dominante e di dominante, non sono necessariamente definiti, possiamo passare da l'un o l'altro. La question è anche come prende conscience dei rapporti di dominazione o non, come si senti dei pezzi o non. E in questo qui concerne Jane, lei è stato passato, ma buona da sinistia ed il vero e fossero indulti, può servire a un sporto per la� meane. a questa epoca non ha d'ambizione particolare l'émancipazione non è qualcosa che la preoccupi, non ha soffi di libertà, la vita il giorno del giorno ma non è che all'imagine che potete 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 farciare un destin e per farciare questo destin potete potete passare la case dominante dopo aver stato dominato Dunque, questo romanzo io sviluppo diversi temi, soprattutto i rapporti di dominazione che possono essere quelli di schiavitù di sfruttamento economico, sessuale tutti i personaggi che rientrano in queste dominazioni quindi sono